Oltre 450 esposti presentati da risparmiatori azzerati e circa 40 le persone tra direttori di filiale e funzionari sul banco degli imputati si è tornati questa mattina in aula per il processo per la truffa aggravata in seguito al crack di Banca Etruria. L'accusa per i dipendenti è quella di aver collocato a piccoli risparmiatori ignari bond ad alto rischio, andati poi in fumo in seguito al decreto salvabanche del 22 novembre 2015. La prima udienza per circa una decina di casi di fronte al giudice Angela Avila si era svolta un mese fa. Questa mattina PM, legali degli imputati e parti civili hanno presentato la propria lista testi. Soggetti che sono parte degli ispettori della Consub e da altri dipendenti che noi abbiamo ritenuto dover chiamare a testimoniare perché acquirenti di obbligazioni subordinate a loro volta, quindi come riprova che non ci fosse assolutamente conoscenza della rischiosità del prodotto. Molti dipendenti hanno acquistato obbligazioni subordinate, alcuni dipendenti avevano acquistato chi si occupava dei titoli ad altri dipendenti, le obbligazioni subordinate ed erano stati consigliati. Questo fa capire assolutamente la buona fede ma soprattutto l'inconsapevolezza da parte dei dipendenti della reale situazione della banca che molto probabilmente questa situazione era conosciuta dai vertici. Unicamente una persona ha deciso di costituirsi parte civile, si tratta di un obbligazionista subordinato tantenne che ha visto sparire i suoi risparmi il 22 novembre. Si sente vittima di un reato e come tale ritiene quindi importante essere parte del procedimento e poter esporre le proprie ragioni e tutta la sua vicenda affinché ne rimanga traccia. Prossima udienza il 18 gennaio quando si entrerà nel vivo del dibattimento con l'audizione dei testimoni dell'accusa.